Musica E' un vero onore, è un piacere essere alla Festa del Cinema di Roma per questa premiere sulla mostra che la stessa fondazione ha voluto produrre e per cui noi ringraziamo il presidente Gianluca Farinelli e la direttrice generale Francesca Mie e la direttrice artistica Paola Malanga Questa mostra è stata curata da me che sono Stefano Di Tommaso e ideata da noi, dalla signora Anna Maria Cuzzolaro che purtroppo non può essere oggi per motivi di salute qui e che ha prestato questo meraviglioso abito che è tratto dal film Risate di Gioia che è stato un dono a lei da parte di Luca Magnani e poi c'è Francesca Pigianelli, direttrice artistica del premio Anna Magnani con cui abbiamo condiviso questo percorso io ho prestato da collezionista privato oltre 100 pezzi che sono qui esposti che sono la dimostrazione del mio amore di questo personaggio straordinario che è appunto Anna Magnani Grazie Ok, io invece volevo aggiungere che per noi è stata un po' una sfida in quanto quando abbiamo fatto una riunione abbiamo deciso che dovevamo omaggiare Anna Magnani ma in un modo internazionale quindi abbiamo preferito dare l'esclusiva proprio alla festa del cinema di Roma perché appunto Anna merita questo ed altro e siamo veramente orgogliosi e felici del successo che sicuramente avrà Grazie da Francesca Pigianelli Grazie 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 Anna Magnani i suoi abiti dalla fine degli anni 40 fino alla fine degli anni 60 tubini neri amava la moda gli piaceva seguirla gli piaceva soprattutto andare a vedere le sfilate lei diceva lo spettacolo dei vestiti ma non amava abiti troppo creativi troppo ricamati, troppo grandi aveva uno stile suo che era quello del tubino nero dove soprattutto sulla base del tubino nero doveva risaltare una spilla i gioielli i gioielli che erano il suo hobby oppure le pellicce di cincillà quindi sì, una donna con una personalità che faceva moda quindi non era lo stilista o il creatore di moda era lei che indossava quel tubino nero e sembrava che avesse l'abito più creativo più grande e più bello della storia della moda grazie a tutti grazie a tutti